Di esempio di monito a molti, legata in qualche modo alla cronaca che stiamo vivendo, la notizia di alcuni calciatori che rischino di rovinarsi la carriera e la vita per essere finiti nel vortice delle scommesse, è notizia di questi giorni. Scommesse clandestine, va da sé. È solo emersa la punta di un iceberg, perché è quasi un terzo della popolazione italiana, 18 milioni di persone, che gioca abitualmente d'azzardo. Di queste, un milione e mezzo sono affette da ludopatia, hanno cioè una vita ingovernabile a causa del gioco d'azzardo, è una droga, è una dipendenza, è una malattia dalla quale è difficile uscire. Ma c'è chi ce la fa. Francesco Fiore. Francesco, grazie per metterci la faccia. Un giocatore, non ricordo chi, parlando della ludopatia, ha detto che è una malattia che parte dalla noia, prosegue con il divertimento e termina in un'ossessione. Allora, lei com'è iniziato? Io ho cominciato da giovanissimo, non ero ancora maggiorenne, e sono entrato in una sala dove correvano i cavalli, e ho fatto giocare le prime 5 mila lire a un mio amico maggiorenne, e da lì subito ho provato una certa attrazione per le scommesse, per la possibilità di vincere, e quindi lì è stata la prima giocata. Che però era solo un divertimento? Sì, era governabile, non era un'ossessione o un problema. E quando è che invece c'è stato il salto, chiamiamolo di qualità, quando è che è diventata un'ossessione? Dai 17 ai 25 anni è stato tutto un crescere, ma comunque controllato, dove riuscivo a gestire il denaro e a destinarne una parte al gioco, come fanno i giocatori sociali, cosiddetti. Quando si diventa giocatori problematici o patologici, che è lo stadio più grave, è quando appunto si abusa. Io ho aperto l'agenzia immobiliare a 26 anni, e mi sono trovato con grandi disponibilità di denaro liquido, e di conseguenza avevo parecchi soldi da giocare e da sperperare in quello che è poi il mondo. Che poi all'inizio, quando lei giocava così, si vinceva la consumazione al bar, o piccole cose che però ti davano il gusto. Le prime slot da banco, avevo 19 anni, erano da banco, proprio sopra il banco del bar, e davano delle vincite con dei ticket in carta. che permettevano di avere una consumazione o il gestore stornava le 5.000 lire. Quindi non era un gioco compulsivo come le Zot o le WLT che ci sono oggi nelle sale. Erano macchine di intrattenimento, però comunque avvicinavano a quello che è il mondo del gioco d'azzardo. Poi diceva, agenzie immobiliare, grosse disponibilità, gli anni passano. Tra l'altro si costruisce anche una vita privata. Certo. Si sposa? Mi ero sposato, ho avuto una bambina insieme a mia moglie, Martina. E anche una figlia? Certo, Martina, mia figlia, sì. Ho avuto una doppia vita per parecchi anni, nel senso che ho cercato di tenere nascosto. Come funzionava questa doppia vita? Andavo a giocare quando potevo, spesso anche di notte, nel senso che così nessuno sapeva niente e mi facevo le mie dosi di azzardo cercando comunque di avere sempre il controllo su me stesso. Pensava? È quello che si sottovaluta il problema. E nel frattempo, nella vita privata, cosa accadeva? Nel frattempo diventa un'ossessione, nel senso che il pensiero principale quando ci si sveglia o sotto la doccia è andare a scommettere e di conseguenza poi si trascurano tutti gli affetti e le priorità che sono anche poi il lavoro. A volte annullavo appuntamenti perché rimanevo a giocare. E a lungo andare questo porta poi all'allontanamento degli affetti perché non si è capiti. D'altronde la colpa è solo mia perché ho tergiversato troppo per riuscire a trovare una via di uscita. Diciamocelo. La moglie a un certo punto ha piantato baracca a Burattini, ha preso la figlia e se n'è andata. Lontana. Lontana sì. E a quel punto? È successo, ma c'è stata una cosa che ha fatto traboccare il vaso. Che aveva una bolletta del gas e era comandata, non pagata, erano 500-600 euro. E mi sono andato a giocare anche quelli, quindi poi le aziende hanno anche usato il gas a casa con una bambina di 4 anni. Era inverno. Ed è questa stata la ragione scatenante per cui son moglie non l'avevo dovuto sapere. Erano già stati fatti incontri dove io avevo ammesso i miei problemi, avevo promesso anche ai suoceri che avrei cambiato vita. quindi poi il fatto di tradire la fiducia di tutti i familiari e i genitori miei compresi che hanno sofferto tanto a causa di questo problema. E poi c'è stato un episodio scatenante molto più ciccioso, se vogliamo. Allora, sua moglie prende, non era italiana, e torna in Slovacchia. In Slovacchia, con la bambina. E quindi possiamo immaginare che come tutti i genitori separati uno prenda, parta, un fine settimana sì, un fine settimana no, metta da parte dei soldi per andare. E invece? E invece è successo che il nostro appuntamento era la vacanza proprio di Halloween con Martina da quando era andata via d'agosto perché sono comunque 850 chilometri quindi volevo passare dei giorni con lei quando era a casa da scuola e tre giorni prima di partire ho fatto una giocata da 1400 euro e sono rimasto con niente in tasca. Sono andato da mio padre per chiedere di un prestito per il viaggio e me l'ha negato consapevole di tutte le promesse che avevo fatto negli anni precedenti. E da lì è stato un tracollo perché quando l'ho detto a mia figlia è stato un pianto interrotto e non sono riuscito a dargli una spiegazione logica del perché papà non è andato a trovarlo. Il motivo era perché non avevo soldi. Ce li avevo tre giorni prima. E da lì sono entrato in una specie di depressione profonda che però mi è servita per isolarmi da tutto. sono stato due giorni e due notti chiuso a casa da solo. I pensieri erano anche brutti però dovevo capire. Dovevo fare un po' il punto della situazione della mia vita che era partita molto bene e poi era arrivata a un punto di... Diciamo che aveva giocato male le sue carte. E a quel punto? A quel punto il terzo giorno però la terza mattina mi sono svegliato e mi sono detto no ma io non sono così non ero così. Io non sono nato giocatore d'azzardo lo sono diventato. Io posso riuscire a governare questa cosa. Posso essere più forte non posso più farmi dominare dal gioco d'azzardo voglio dominare io questa cosa. Di conseguenza quel giorno lì ho chiamato l'associazione giocatori anonimi che già conoscevo e ho chiamato il CERT dove fanno delle riunioni con lo psicologo per seguire chi vuole entrare seriamente solo seriamente in terapia e quindi con un altro modo di pormi con queste persone ho avuto l'umiltà di ammettere me stesso agli altri che ero incapace io considero un giocatore patologico incapace di intendere di volere quando ha del denaro se non è più governabile nel caso poi ho seguito i consigli dallo psicologo del CERT ho fatto gestire il denaro a mio padre per un anno un anno e mezzo perché ci vuole una specie di tutor che ti permetta di non avere denaro in tasca e quindi di non avere quel fiammifero che poi accende il fuoco che può scoppiare in un incendio devastante non solo per se stessi ma anche per chi ti vuole bene e di conseguenza ci vuole una molla forte per uscirne io non sono uscito era ottobre 2012 era Halloween proprio le vacanze dovevo farle con Martina non le ho fatte le ho fatte a Natale ma da lì è stato tutto quanto un rafforzarmi come carattere e anche un pormi in un certo modo contro il sistema gioco d'azzardo che io considero lucri sulla fragilità delle persone fragili è passato ha pagato che cosa si sente di dire a chi in questo momento magari aspetta ha un momento per scendere sotto casa e andare a giocare bisogna fare una riflessione e capire che non si vive bene giocando d'azzardo ma è il gioco d'azzardo che vive bene se noi continuiamo a dargli i nostri soldi quindi non siamo nati i giocatori perciò se ne può uscire ma bisogna avere la consapevolezza che bisogna chiedere aiuto bisogna rivolgersi alle strutture competenti bisogna avere la voglia di rimettersi in gioco ma per rifarsi una vita bisogna trovare delle attività sane da fare che diano emozioni positive ma che non siano quelle dovute alle giocate quali sono state le sue attività sane ma ho ripreso fare le natura di calcio sono andato a funghi parecchio però ho avuto energia buona da queste cose sono passati molti Halloween da quell'Halloween mancato come va con la figlia bene bene ci vediamo già questo giovedì che viene da sola con l'aereo della Slovacchia è orgogliosa di me io ho già fatto parecchie attività ma perché penso che presto farà un'associazione di promozione sociale per aiutare i bambini nelle scuole a capire questo problema se il tempo fosse un gambero se ci fosse la possibilità di tornare indietro cosa direbbe dal Francesco di 10-11 anni fa guarda che non eri così 10 anni fa ti ricordi quando andavamo a giocare a calcio oppure li ricorderei com'era prima di diventare un giocatore patologico e in confermezza e col sorriso gli direi guarda che tu puoi tornare con la bella persona che eri il gioco ti sta dominando ti stai rovinando la vita perché devi ammettere le tue colpe non è colpa degli altri perché il giocatore tende a minimizzare a trovare animi a trovare scuse sono andato a giocare perché c'è sempre colpa degli altri ma non è così grazie per averci messo la faccia e un abbraccio a sua figlia ci ritroviamo tra pochi istanti